John Hart questo puzzle 3D che faremo insieme, davvero molto carino e bello da vedere, buona visione e ascolto. Bene, iniziamo ad aprire la busta, questo sarà il risultato finale. Assicuriamo. Diciamoci di aver preso tutto guardando qui tutti i pezzi che servono per comporre il tutto Allora iniziamo dal tavolo Allora iniziamo dal tavolo E il tavolino 3D è già pronto Allora iniziamo dal tavolo Adesso facciamo il mobiletto Allora iniziamo dal tavolo Allora iniziamo dal tavolo Allora iniziamo dal tavolo Allora iniziamo 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Ecco abbiamo quasi finito Un immobiletto Ecco fatto, pronto Un immobiletto Una piccola credenza Adesso continuiamo con le sedie E' una sedia esatta Eccola Uno E due Ecco Davvero molto bello in miniatura Io adoro le cose in miniatura Adesso andiamo a completare Le altre sedie Che sono decisamente più semplici da fare Da montare Ecco la seconda sedia 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 Ecco la terza Allora E andiamo con l'ultima Ecco qui il lavoro completo adesso Adesso per rendere Questo piccolo scenario più carino Voglio aggiungere degli elementi Per rendere il tutto più bello e realistico Quindi andremo a mettere Un bellissimo tappetino in miniatura Questo Un bel tappetino di questo materiale qui Sopra il tavolino con le sedie E adesso aggiungiamo qualche ornamento Come per esempio questi fiorellini qui Da mettere al centro del tavolino Oppure un mini bicchierino Che possiamo poggiare anche qui Sempre rimanendo in tema Adesso aggiungiamo una perlina di legno Dello stesso materiale Ed infine aggiungiamo qualche elemento Come questo bellissimo montomondo E questo ornamento piccolino Oppure volendo possiamo anche ricreare un vasetto con i fiori Che non si mantiene Che non si mantiene Quindi lasciamo così Grazie per aver ascoltato e visto questo video Questo è il risultato finale del mio lavoretto Più nel dettaglio Spero vi sia piaciuto E vi abbia rilassato abbastanza Ci vediamo al prossimo video Buonanotte e buon riposo a tutti Grazie a tutti